Come viene gestita l'economia mondiale e quali sono i principali enti che la governano? Dalle agenzie di rating al Fondo Monetario Internazionale, dall'OXE al WTO ecco il dizionario dei principali enti economico-finanziari al mondo. Agenzie di rating Le agenzie di rating sono degli intermediari tra gli enti e gli investitori. Hanno il compito di analizzare e valutare le condizioni finanziarie di un ente e di uno Stato, per fornire poi agli investitori uno strumento utile per effettuare i giusti investimenti. Il rating determina i titoli di Stato e l'andamento del mercato delle azioni. Le agenzie di rating più note sono, Mudice, Standard & Amp, Pursi e Fitch. Banche centrali Il ruolo delle banche centrali è quello di controllare la politica monetaria di un paese o di un'area economica che condivide la stessa moneta, garantendo la stabilità del settore finanziario e bancario, contenendo i rischi. Negli Stati Uniti la banca centrale è la Federal Reserve, Fed. In Europa la banca centrale europea, BCE, gli altri istituti importanti nel mondo sono la Bank of England, BOE, e la Bank of Japan, BOE. Si tratta di istituti indipendenti dal potere politico. BEI La banca europea degli investimenti, BEI, è stata creata nel 1957 per supportare attraverso investimenti mirati gli obiettivi di crescita economica e sociale dell'Unione Europea. Le operazioni della BEI si occupano di sviluppo regionale, infrastrutture, telecomunicazioni, energia, ricerca e innovazione, ambiente, salute, istruzione. Banca mondiale La World Bank è l'istituto di credito internazionale che finanzia l'investimento nei paesi in via di sviluppo, nata nel 1944 per volontà della Conferenza delle Nazioni Unite. Al suo interno comprende la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo Fondo Monetario Internazionale Il Fondo Monetario Internazionale, FMI, con sede a Washington, è un'istituzione internazionale cui partecipano 188 paesi, che ha la finalità di promuovere la stabilità economica e finanziaria. Tra le finalità del suo operato, ci sono la promozione della cooperazione monetaria internazionale, la facilitazione del commercio internazionale e la promozione della stabilità dei rapporti di cambio. EBA l'autorità bancaria europea, European Banking Authority, da cui la sigla EBA, è un organismo dell'Unione Europea che dal 1 gennaio 2011 ha il compito di sorvegliare il mercato bancario europeo. A essa partecipano tutte le autorità di vigilanza bancaria dell'Unione Europea. OXE l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OXE, è stata fondata con una convenzione firmata il 14 dicembre 1960, con sede a Parigi. Si tratta di un'organizzazione internazionale di studi economici e vente come membri 34 paesi sviluppati che presentano un governo di stampo democratico e un'economia di mercato. È sede di confronto sulle politiche commerciali adottate da ogni Stato membro, per identificare soluzioni e linee di azione per problematiche comuni. L'obiettivo su vasta scala è una crescita economica sostenibile ed equilibrata, il mantenimento di una situazione finanziaria stabile, e l'innalzamento del grado di occupazione e del tenore di vita della popolazione. SECLA Securities and Exchange Commission, Commissione per i titoli e gli scambi, è l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa. Il corrispettivo italiano è la CONSOB. WTO L'Organizzazione Mondiale del Commercio, World Trade Organization, WTO, rappresenta il più importante foro negoziale per le relazioni commerciali multilaterali a livello internazionale. Il WTO oggi è composto da 157 membri che contano per più del 97% del commercio mondiale. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, Stato, Paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. 6 B. Rudufort-Niedergrenwood, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui su www.assetmanagement.pict.e nella sezione Risorse a di pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne l'appropriatezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID II MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative.